Due morti, tre feriti gravi, uno scontro frontale a folle velocità all'interno di un'assurda domenica di lacerante dolore e sconcerto derivato dall'ennesimo incidente mortale sulla strada Montelabattese. Sono circa le 16.30 di ieri, domenica 20 giugno, quando una pattuglia dei Carabinieri, proprio su questa strada Montelabattese, decide di intimare l'alt ad una BMW che sta percorrendo la strada da Pesaro in direzione Urbino. Un alt motivato e circostanziato anche per una segnalazione di un'auto sospettata di furti che sembra corrispondere all'identikit della BMW in questione. Alla guida c'è il 27enne macedone Sultan Ramadani, residente a Sant'Angelo in Vado, al suo fianco l'amico Elvis Cola di Montecalvo in Foglia. I due sono entrambi già noti alle forze dell'ordine per guai con la giustizia e Ramadani, anziché fermarsi, decide di schiacciare l'acceleratore e darsi alla fuga. Una fuga scriteriata che tocca il picco di 150 km orari, praticamente quasi il triplo del limite consentito su questa strada. Una fuga per lasciare indietro i carabinieri che di fatto decelerano quasi subito e capendo i rischi potenziali, rischi che poi diventeranno una tremenda realtà di lì a poco. Perché l'inseguimento porta a perdere il controllo dell'auto in fase di sorpasso. Una BMW ingovernabile che si schianta contro una Fiat 500 con tre ragazzi a bordo che procedeva in senso opposto. Un frontale senza scampo per Martina Mazza, 32 anni di Valle Foglia, giovane mamma di un bambino di 5 anni. Donna morta poco dopo l'impatto all'arrivo del 118 e dei vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere dell'auto accartocciata. Morta così come Sultan Ramadani, conducente della BMW che ha causato l'incidente, anche egli deceduto sul colpo. La corsa a folle velocità della BMW di Sultan Ramadani si è interrotta in questo punto della Montelabattese, testimoniato dai rilievi a terra sull'impatto registrati dalle forze dell'ordine e dai carabinieri intervenuti sul posto. Siamo davvero a poche decine di metri dall'inizio della rilevazione con autovelox che dovrebbe decelerare ulteriormente la velocità. Qui invece è avvenuto l'impatto sulla corsia opposta. Nella corsia opposta alla nostra è terminata la corsa della BMW. Alla mia destra invece qui dove c'è questo fossato ai limite della carreggiata in cui si può vedere anche questo cantiere di lavoro in corso è finita la corsa della Fiat 500 con Martina Mazza a bordo. Una Fiat 500 accartocciata in fiamme, un accumulo di lamiere che hanno chiamato all'intervento i vigili del fuoco, un luogo in cui come vedete ora c'è un mazzo di fiori a ricordare questa assurda tragedia. Per Martina Mazza, 32 anni, l'impatto è stato troppo violento. Non c'è stato nulla da fare. A causa di una tragedia inaccettabile, la giovane mamma lascia orfano un bambino di 5 anni che in quelle ore, pensate per un'uscita sera alla Pesaro, era rimasto con i nonni a Vallefoglia. Alla guida della 500 c'era invece Alessia Mazza, 28enne sorella di Martina. Con le due ragazze in macchina anche l'amico Kevin Kamcha. Entrambi sono stati soccosi e trasportati in codice rosso all'ospedale Torrette in condizioni inizialmente gravi, poi andate migliorando nella giornata odierna. I due infatti risultano vigili e cosciente seppure la prognosi resta riservata. Condizioni che invece restano molto gravi per l'albanese Elvis Kola, passeggero della BMW al fianco di Ramadani, che a Torrette è stato operato d'urgenza. Condizioni che vengono monitorate anche per comprendere ulteriori particolari d'indagine che nel frattempo hanno rivelato dettagli sconcertanti sul perché Ramadani potrebbe essersi dato alla fuga. Non risulta infatti che il Macedone abbia mai realmente ottenuto la patente di guida. E in tal senso era incappato in tre precedenti con annesse denunce. Due anni fa fu denunciato perché guidava con una patente Macedone falsa. Ricevette un'altra denuncia simile nel 2022 e addirittura un'altra due mesi fa quando fu inseguito e bloccato dai carabinieri Fragradara e Gabic per guida senza patente. La BMW gli era stata sequestrata ma un mese fa era tornata nella disponibilità della madre intestataria del veicolo. Era stata infatti revocata la confisca del mezzo in attesa del processo fissato per novembre. Ieri però Ramadani si è messo di nuovo alla guida della BMW e di nuovo si è trovato in un dissennato inseguimento. L'ultimo.